e rieccoci in studio allora quello che abbiamo visto fino a ora è abbastanza sconfortante però ora abbiamo l'ultima mezz'oretta, venti minuti diciamo di situazione sconfortante poi parleremo di calcio lo dico a tutti che le vogliono andare a dormire fra un pochetto parleremo di calcio, parleremo principalmente della ternala chi si loda si imbroda ma tra mezz'ora parliamo solo della ternala per venti minuti, ve lo voglio dire adesso e parliamo poi del calcio ma parliamo in maniera allegra perché ora di cosa dobbiamo andare a parlare? di un altro problema, covid cioè c'è il covid, molte imprese non hanno lavorato ci sono delle situazioni drammatiche a livello di tassazione, di stipendi, di cassa integrazione insomma avete sentito che sono stati dati 10 miliardi 20 miliardi, 30 miliardi debito pubblico italiano, rettore a quanto è arrivato? 2.603 miliardi solo? a 2 gennaio solo? a 2.603 miliardi quasi quasi mi sembrava peggio pensavo fossimo già a 3 miliardi quando ci daranno però i 220 miliardi quindi arriveremo a 3 mila no ma ci daranno in cilio e ci daranno fino a 2026 vabbè 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 comunque avete capito allora cos'è successo in Italia per aiutare chi lavora per aiutare i commercianti è aumentata la Tari cioè lo so bisognerebbe fare un pacchetto di imbecilli e portarli tutti da un'altra parte al limite non lo so io proporrei la Germania dato che è piena di geni però niente non si può fare allora parliamo di questo argomento con Enrico Postacchini che è incaricato commercio e città per Confcommercio buonasera dottore buonasera a voi buonasera io voglio fare subito una domanda a chi è che gli è venuto in mente di aumentare la Tari beh sono i comuni la maggior parte quell'80% dei comuni italiani che hanno problemi di bilancio e meno male che nella politica italiana dicevano che i sindaci sono la parte intelligente della politica italiana pensa se non erano intelligenti invece i comuni virtuosi sono stati pochi quelli virtuosi l'hanno anche scontata del 30 in alcuni casi anche il 50% ma allora facciamo la lista dei nomi di quelli che hanno scontato del 30 al 50% perché almeno abbiamo una parte di persone intelligenti davvero e dopodiché abbiamo altri che non ci hanno capitano a mazzo sono comuni che non è questione intelligente sono comuni virtuosi che nel tempo hanno amministrato meglio o hanno gli strumenti per amministrare meglio perché sono anche in territori più fortunati però all'interno di una stessa regione può essere il capoluogo ma i comuni non di capoluogo non hanno non solo potuto scontarla ma addirittura hanno dovuto aumentarla pur garantendosi entrate fittizie perché in realtà sono poi entrate che non verranno onorate per la maggior parte dalle imprese perché non saranno in grado di farlo quindi si innescherà e già si innesca un meccanismo perverso di morosità e quindi di ancora una volta quindi di aumento del 30% oltre scusi chi l'aumenta lei da dove ci sentiamo noi io sono a Roma lei? la mia città è Bologna Bologna la mia città l'ha scontata del 30% benissimo Bologna ha scontato del 30% Roma? però i comuni limitrofi Casalecchio San Lazzaro San Giovanni Persiceto non hanno potuto farlo perché non erano in condizione di farlo benissimo e l'hanno quindi aumentata di quanto? no beh c'è una media che noi abbiamo stimato che è intorno al 20% benissimo quando poi diventeranno morosi i commercianti aumenterà di un altro 30% quindi l'aumento è di circa il 60% perché non è 20 più 30 è 20 più tutta la cifra più l'aumento il 30% perché non hai pagato quindi diventerà una mezza tragedia quindi fra un paio di anni qualcuno si troverà sequestrato alla macchina si troverà sequestrato una parte di qualcosa in banca ai conti correnti perché non ha pagato la Tari certo lei considera che la Tari che è una piccola tassa è una piccolissima tassa su un'attività piccolina incide da 1000 euro minimo fino a 20 25 mila euro l'anno quindi stiamo parlando di una piccolissima tassa vogliamo dire per quale motivo i commercianti pagano la Tari qual è la diciamo la cosa che pagano con la Tari lo smaltimento rifiuti dei cestini all'interno di un'attività commerciale lo volevo dire questo perché a me questa cosa affascina molto cioè io sono a me questa cosa affascina molto perché io penso che i rifiuti siano una come dire una benedizione a questo punto voglio voglio levarmi la maschera e voglio diventare quello che sono cioè io vedo che in tutto il mondo le nazioni intelligenti usano l'umido per fare energia elettrica usano la plastica per reciclare plastica la carta ritorna a essere carta da molte parti carta e plastica la pagano in Italia invece siamo ancora al medioevo e quindi nel medioevo come in tante altre parti del mondo non solo in Italia diciamo dove il cervello non funziona chi produce mondezza deve pagare allora dovremo metterci d'accordo dovremo capire che fine fanno tutti questi soldi quando per esempio un negoziante consegna carta e plastica perché qualcuno che prende carta e plastica dato che in tutta Italia si fa anche riciclaggio di mondezza le venderà questa carta e questa plastica no? sì sì no ma nella maggior parte dei casi sono rifiuti molto come dire normali e certamente non nocivi stiamo parlando di attività commerciali quindi non ci sono smaltimenti se non per l'attività di restaurazione pubblici esercizi di oli ma quelli hanno una gestione particolare così come l'indifferenziato e l'umido ma la stragrande maggioranza che riguarda lo smaltimento di rifiuti dei terziari sono rifiuti assolutamente netossici e secchi insomma di base la verità bisogna dirla noi dobbiamo pagare queste cifre perché i rifiuti in Italia avendo fatto delle scelte industriali ed ecologiche e demenziali dobbiamo mandarle nel resto d'Europa o nel resto del mondo questa è la verità e noi paghiamo per mandare i nostri rifiuti all'estero quindi dopo aver fatto questo danno succede che in pieno covid commercianti artigiani debbano pagare un aumento su questa tassa lei dice già molti non la pagheranno e quindi come ne usciamo fuori da sto perché mi sembra un percorso intanto intanto ricordiamo che se non fosse chiaro che è aumentato è stato chiesto di pagarla ad attività che sono state chiuse l'anno scorso forzatamente tre mesi e nei mesi autunnali in zone arancioni quando è andata bene quest'anno uguale cioè nel senso che stiamo chiedendo le stesse cifre di imposizione con lo stesso volume di smaltimento ad attività chiuse questo purtroppo però avviene anche nelle utenze perché pagando sul presunto cioè non è che le bollette della luce sono calate o del telefono del collegamento a internet anche la sattività è chiuse quindi il paradosso è che ci sono contratti che si basano su quello che è un consumo presunto e poi si andrà a conguare teorico quando si accorgono poi ti dicano adesso la bolletta poi ti daremo i soldi Rettore lei che si occupa di economia ma come ne usciamo vivi da questa storia ma è solo è come un ago in un pagliaio questa cosa della Dari perché è importante ma insomma i problemi che hanno le aziende al dettaglio soprattutto quelle che operano come sta benissimo il nostro ospite sono di natura ben più pesante col decreto sostegni si è fatto un intervento che come cifra sembrava considerevole 11 miliardi in realtà le partite IVA hanno avuto facendo i calcoli ben poco adesso vi sarà un nuovo intervento bisognerebbe fare quello che abbiamo detto sin dall'inizio Bandecchi per quanto riguarda le tasse e le imposte bisognava spostare con decisione il pagamento rateizzarlo per un periodo di 24 36 mesi dall'inizio invece li stanno spostando di due mesi in due mesi in due mesi io voglio dire una cosa se aumenti però i ristoranti la tassa sui rifiuti i ristoranti ce l'hai chiusi da un anno io vorrei capire chi ha avuto quest'idea geniale ma io voglio vincere a capire questa cosa perché vuol dire che tra noi si aggirano degli idioti che sono mostruosi sono peggio del covid perché se mi prende il covid me la posso cavare anche al limite mi intubano e se non muoio ma se mi prende uno di questi imbecilli non sopravvivo perché questi qua veramente non muoiono mai quando Bostacchini dice alcuni comuni non lo potevano fare che si intende? si intende che la voce tari come le multe stradali o i diritti di sosta sono voci fondamentali nel bilancio dei comuni e quindi è certo i comuni non hanno saputo prevedere questo tipo di impatto e quindi rinunciare la tari significa chiudere in perita il bilancio di un comune ma allora a livello di risorse forse era meglio spostare diciamo così un aiuto nei confronti dei comuni i comuni magari avrebbero potuto sospendere tutto il prelievo fiscale che per loro è sì necessario cioè passare dalla politica di ristoria all'intervento sul fisco posso rispondere io anche qui le regioni hanno già scusi dottore volevo dire una cosa a Fabi volevo dire una cosa a Fabi siccome nelle imprese private lo Stato ha detto ora state chiusi poi vi mandiamo 3-400 euro ora il problema è che nelle imprese dei comuni delle regioni dello Stato non si può fare questo però ci vogliono i soldi e pagare gli stipendi ugualmente ecco allora si va a spremere l'asino cioè le ripeto chi sta facendo questi ragionamenti non ci sta col cervello perché non ha proprio fatto nessun ragionamento punto siccome lei anche se coloro che si occupano di raccogliere la mondesa non ci devono più andare in quei 15.000 20.000 ristoranti e loro però i 20.000 ristoranti devono pagare uguale perché quelle persone non possono essere né licenziate né messe in cassa integrazione giustamente non me ne vogliano però attenzione perché tutti quelli che sono stati a casa nell'ultimo anno piloti di aerei hostess tutto il comparto del turismo tutti gli albergatori tutti i ristoratori tutti coloro che facevano i camerieri tutti coloro che facevano i cuochi signori non siamo diversi abbiamo tutti due occhi un naso e una bocca mangiamo tutti facciamo le stesse cose era per chiarirlo per tutti quelli che pensano che sono cattivi che vogliono mandare a casa qualcuno prego diceva Postacchini sulla questione delle politiche fiscali invece che ristorico i ristori sono stati e continuano ad essere un elemento fondamentale di sostegno alle imprese perché se non c'è una quota di fondo perduto per sopredire come è stato in quest'anno al pagamento appunto delle utenze in minima parte perché ricordiamo questo ultimo sostegno lanciato dal governo Draghi sulla base però del governo Conte sono 11 miliardi su 32 che sono destinati alle imprese e parcellizzati per il numero di imprese del terziario corrispondono grosso modo all'incasso perso di una giornata dello scorso aprile del 2020 una giornata media un martedì un mercoledì per un'aziendina piccola con 3-4 indipendenti che fatturi da 500.000 a un milione di euro può essere un ristorante un negozio di abbigliamento un negozio di calzature dei settori più colpiti 3.000 di media 3.700 corrispondono a una giornata intrasettimanale non brillantissima di incasso a fronte di danni per imprese di questo tipo già valutabili in diverse centinaia di miliardi di euro perché quando abbiamo isolato con i codici a teco non noi che avevamo detto fin da subito che la politica in questo senso stava sbagliando di grosso abbiamo isolato alcuni comparti all'interno di filiere dove il resto della filiera ha sempre continuato a lavorare c'è la produzione c'è l'ingrosso che lavora ci sono le banche le assicurazioni i padroni di casa dei muri per chi è in affitto tutta quella serie di soggetti che compongono quella filiera di garantie di impegni di oneri sono ovviamente i capitoli che assinuano di più gli imprenditori sono aperti e paradossalmente in questo momento sono all'inseguimento di quelli chiusi allora socialmente ed eticamente non è giusto cioè non è questo lo strumento ma infatti non è possibile che chi è chiuso sia inseguito dai soggetti che non hanno mai chiuso e si è innescato una guerra fra poveri perché chi produce consegna giustamente deve essere pagato ed è uno dei aspetti che più assina quello dei titoli di garanzia nel 20 tutto questo filone di come dire di paure era stato scongiurato con il congelamento degli insoluti nel 21 ancora così non è si sta lavorando sugli ammendamenti per ripercorrere il 20 dal momento che nel 21 i dati del primo trimestre sono molto peggio del 20 dal punto di vista del PIL e del fatturato quindi il 21 dovrà essere equiparato al 20 per tutto quello che sono anche le norme che riguardano i bilanci delle aziende possiamo pensare prego voglio dire una cosa quando alle aziende si sono dati poi i famosi crediti di imposta ma se l'azienda è chiusa che ci fa col credito di imposta la birra perché se l'azienda è chiusa non deve pagare le tasse perché non ha fatturato non ha fatto nulla ha rimesso è inutile che mi dai il credito di imposta che oltretutto poi si esaurisce cioè se io pago l'affitto senza incassare se io pago gli stipendi senza incassare tu mi dai il credito di imposta ma io morirò di fame non ci avrò i soldi cioè bisogna essere geni laureati in economia non bisogna fare solo politici per capire queste cose perché io non l'ho ancora capito no no ma è così no ma io anzi devo dire che nella sua analisi è stato fin troppo clemente perché quando lei ha detto che i ristori sono stati sufficienti ma forse ho capito male i ristori sono stati tardivi insufficienti e soprattutto i contributi a fondo perduto noi per un periodo molto ampio non li abbiamo avuti perché sono partiti dal decreto rilancio quindi era quello il periodo in cui andavano aiutate e tuttora il problema grosso che ha il governo Draghi non è l'Europa che in Europa il recovery plan Draghi se lo porta avanti anche da solo con la reputazione il problema è aiutare le piccole e medie imprese e le famiglie perché gli 11 miliardi servono a poco per le cose che sta dicendo lei e vedremo adesso se avranno il coraggio di fare quello che dovevano fare dieci mesi fa otto mesi fa cioè il debito bisogna farlo non ci sono alternative oggi fare debito aiutare sperare nella ripresa che forse ci può essere perché tra campagna di vaccinazione che con tante difficoltà ma sta partendo e altre cose noi forse a maggio-giugno ricominciamo un'attività proficua infatti volevo agganciarmi a questo e chiederle Postacchini quanta speranza c'è nella fase in cui ci saranno le riaperture abbiamo visto che c'è stato come minimo un minimo di entusiasmo quando si è potuto riendare ai ristoranti magari a pranzo nel fine settimana sono stati prenotati insomma non dico presi d'assalto ma quasi quanto si confida appunto in una situazione di di riapertura per quanto riguarda la ripresa dei consumi ci sarà oppure rimarrà bloccata allora è fondamentale ripartire quanto prima perché sarebbe stato fondamentale non chiudere se si fosse provveduto come si doveva sul fronte della sanità dell'adeguamento del trasporto pubblico del controllo dei flussi delle persone tutto quello che ne consegue quindi tutti gli errori sono ricaduti sui comparti considerati non essenziali peccato che siano essenziali perché rappresentano quel 90% di imprese in Italia da 1 a 15 dipendenti che sorreggono il sistema del welfare e non solo quindi c'è questo aspetto di cui si è indorata la bocca anche l'Europa con lo Small Business Act a suo tempo che poi non ha mai trovato realizzazione vera insomma con lo statuto delle imprese però va detto che oramai ci si accontenta di talmente poco per cui è necessario riaprire perché la politica dei ristori non paga e non potrà mai pagare il danno subito di cui non c'è contezza perché è spaventoso e lo Stato non potrà mai provvedere al ristoro di quello che si è creato come danno per le piccole imprese lavorare poco per i prossimi anni è un obiettivo ed è una realtà ma per lavorare poco bisogna che lo Stato abbia fiducia e creda nelle aziende piccole che lavorano poco perché anche gli accertamenti che si sono come dire in qualche modo concretizzati da parte dell'erario negli ultimi anni e soprattutto nel primo decennio in realtà sono a capito di aziende in crisi o aziende che sono già lavorando poco rispetto ai propri volumi quindi dottore mi sente in questo caso gli analisti non si sbagliano mi sente allora il punto è molto chiaro lo dico anche a voi in studio lo dico anche a voi in studio dopo un anno anzi dopo 13 mesi possiamo sostenere in maniera tranquilla e serena che la politica delle chiusure è sbagliata a livello economico mostruosamente sbagliata perfetta a livello sanitario perché se ognuno di noi sta chiuso in una cassa da morto sicuramente non contagia un altro ok? sono stato chiaro? quindi a punto di vista sanitario siccome non ci abbiamo capito una mazza e siccome non siamo attrezzati a poter far fronte a questa epidemia basta vedere con i vaccini ne abbiamo comprati una dose che basta una malapena per non lo so per niente perché dopo mesi non abbiamo i vaccini e per arrivare a 500.000 dosi bisogna non è vero che lo faremo ad aprile 500.000 dosi se arriva a Johnson & Johnson ce la facciamo no ma Johnson & Johnson ha detto che consegneranno da fine aprile dal 19 aprile quindi vuol dire che forse arriveremo a 5.000 al metà maggio allora siccome tutta la politica è stata sbagliata ad oggi quella sanitaria ci hanno rimesso l'economia ora qualcuno sta smettendo di mangiare se non ci sbrighiamo a mettere a posto la situazione sanitaria tra un po' dovremmo dire a tutti come è successo secondo me in Germania sono stati più furbi perché in Germania a un certo punto si sono accorti che non potevano continuare da soldi alla gente dicendogli stai chiuso a casa perché sono in Europa anche loro e l'hanno fatti tornare tutti a lavorare potendosene di quanti si ammalavano in Inghilterra dove invece se ne sono sempre sbattuti le scatole di chi lavora perché vi ricordo che in Inghilterra non c'è la pensione non c'è un contratto stabile in Inghilterra non c'è nulla hanno detto ora siccome con la sanità dobbiamo mettersi a posto tutti a casa noi in Italia siamo fermi tra le due situazioni ve lo dico io però che non faccio l'economista e nemmeno il genio abbiamo tre mesi tre mesi veri se entro tre mesi riusciamo a rimettere in moto l'economia non la fermiamo più allora forse ci rimetteremo in moto entro il prossimo anno e mezzo due se nei prossimi tre mesi non rimettiamo in moto l'economia perché l'epidemia va avanti cambiate nazione perché qua abbiamo cambiato aria perché nessuno si rimette più in moto scusi ho voluto dare un cenno dei programmi nel prossimo futuro no perché se no è inutile continuiamo a chiacchierarci addosso perché guardi sono tra quelli che sta meglio però detto questo abbiamo ancora un secondo trimestre complicato terzo e quarto se la campagna di vaccinazione va avanti bene faremo e ce ne andiamo via perché non si può fare nulla qui siamo morti perché lo Stato quando ha dato l'ultima volta che ha dato il decreto ristori io ricordo per tutti coloro che hanno una palestra e vorrei essere smentito da lei dottore gli ha detto allora per il vostro lavoro istituzionale non vi ristoro nulla vi ristoro sul barretto che avevate dentro sugli oggetti che vendevate oggettistiche insomma ha scelto una serie di cose e ha rifilato a palestre che fanno 700 mila euro in un anno di incasso 2.500 euro ad aziende che fanno 70 milioni gli ha dato 65 mila euro 70 milioni per chi le ha visti dovrebbe sapere che occupano uno spazio importante 65 mila euro quindi sinceramente il decreto elemosine doveva essere eliminato ora se andiamo avanti così tra un pochetto siamo alla frutta 3 mesi o il covid sparisce o sparisce l'economia italiana siamo arrivati il debito comunque sfiorerà i 3.000 miliardi mio nipote non intende pagarli va a vivere da un'altra parte tanto faccio ma non li pagherà nessuno non li pagherà nessuno questa è una barzelletta tanto io muoio lei muore non è che il debito li cade sui singoli il debito è dello Stato queste sono favore in Argentina io ho degli amici in Argentina che ancora fanno la fame io ho degli amici in Argentina ma l'Italia non è quella condizione stiamo attenti signori che alla fine poi qui nessuno succede mai niente poi succede tutto va bene dottore non la vogliamo spaventare oltremodo lei ha già spaventato di suo che tempi abbiamo postacchini secondo me no no ci vuole ben altro per spaventarti sono uno dei tanti piccoli imprenditori di questo paese quindi se ne sono già viste tanti ma lei concorda con me che siamo arrivati abbiamo l'acqua qua che se andiamo avanti altri 10 minuti l'acqua ci tappanassero l'avevamo già prima perché il decennio 2009 2019 è stato nefasto lo so e ancora non si è finito di pagare quel decennio e quando parliamo di imposte che andrebbero a zerate non parliamo delle attuali che diamo per scontato che saranno a zerate il 72% delle imprese in quel decennio ha rateizzato le imposte non perché volesse evadere perché non riusciva a pagarle ed è preoccupato di quelle rateizzazioni che si sono fermate lei si deve preoccupare di parlare con politici che dovrebbero aver lavorato nella loro vita allora la capiranno se no non la capiranno e lei pagherà le tasse perché è un evasore come io sono un criminale lei è un piccolo criminale come me siamo due piccoli criminali e lei in questa nazione da 1000 euro mi scusi se delle volte mi viene da dire la verità perché purtroppo bisogna iniziare a capirci detto questo io la saluto che si è fatto tardi e la nostra trasmissione sta per finire la televisione sta per chiudere io sto per essere arrestato detto questo la saluto e ci rivediamo il prima possibile sperando che il covid sia andata a farsi in una passeggiata arrivederla per adesso grazie godetevi il calcio ecco ci godiamo il calcio è l'unica cosa che ci è rimasta ma per poco ancora quest'anno stanno per fallire 4-5 aziende calcistiche qualcuna è già fallita il Trapani nemmeno è partito e anche questa è un'altra tragedia lei pensi ci sono alcuni campionati di calcio che saranno falsati dal fallimento di alcune aziende e perché quando l'azienda fallisce sa cosa succede si levano i punti che sono stati fatti nelle partite con questa azienda e quindi è una cosa buffissima perché se io ho vinto due partite ho 6 punti in tasca che perdo se lui ha perso due partite ha 0 punti che perde quindi lui mi raggiunge perché io vado indietro di 6 punti pensi un po' questo è un campionato di calcio qui anche nelle cose più stupide non ci stiamo col cervello arrivederla grazie grazie buonanotte a voi buonanotte bene ce l'abbiamo il direttore pubblicità pubblicità buonanotte a voi buonanotte a voi buonanotte a voi buonanotte a voi buonanotte a voi